oh amore stai giocando continua pure me che ho posto l'autocamera sei una capona tesoro ti preparo un panino per la merenda a scuola no ne voglio tre ma certo cara devi crescere hai bisogno di mangiare tanto ciao ele ormai sei grande e non ti serve più la mamma che ti prepara la merenda non ti serve più la mamma che ti prepara la merenda finalmente è libera ciao morirò di fame amore mi raccomando metti la canottiera dentro i pantaloni prima di uscire e non mi interessa se è estate ti ho detto di metterla a canottiera metti la canottiera copriti mamma sto tanto male oh tesoro cara no no non stare ma cosa vuoi una cioccolata calda vuoi una minestrina vuoi l'aerosol no l'aerosol no dimmi che cosa vuoi allora voglio la cioccolata calda la minestrina i cartoni animali va bene cara adesso ti porto tutto e poi voglio che papà faccia il giocoliere ora lo chiamo vieni a fare il giocoliere ok adesso arriva vedi vedi io cosa ti avevo detto di coprirti e invece adesso hai il raffreddore ecco io l'avevo detto guardati guardati mamma allora io per questo natale vorrei i giocatori dello kitty la casetta delle barbie poi quelle farfalle elettroniche che si muovono fanno così poi i giochi in scatola poi vorrei anche altri peluche poi vorrei i giochi di scienza poi mamma e pissi prego per questo natale mi compri un gioco per il nintendo ti prego ti prego ti prego ti prego Eleonora ma non sei un po' troppo grande per voler giocattoli ma voi non mi avete nemmeno mai regalato il miglio e il meglio mamma sono stanca posso fare una pausa? ma certo tesoro prenditi tutto il tempo che vuoi poi ricominci a studiare grazie mami si ma basta studiare faccio una pausa toh toh ecco guarda cosa stai facendo? sto giocando con il cellulare e quando è che studi? mai e infatti poi i voti si vedono ma santo cielo Eleonora ma dai perché? non esci mai non sei mai a casa studia esci con gli amici non mi piacciono i tuoi amici ogni tanto mia figlia mi fa esasperare ma io le voglio comunque bene e si ragazzi perché a volte i genitori ci sembrano insopportabili ci sgridano ma lo fanno per il nostro bene per cui noi cerchiamo di non farli esasperare troppo ciao ragazzi volevo dirvi che ci incontriamo il 12 novembre al centro commerciale Bicocca Village a Milano insieme a me contro te e invece ci sono due nuove tappe del firma coppia di come sopravvivere a amore, amiche, scuola e specchio e infatti ci incontriamo il 13 novembre al centro commerciale Borgo Gioioso a Modena dalle 4 e il 19 novembre al centro commerciale Le Colonne a Brindisi delle 4 e mezza ciao a tutti io sono Eleonora e questo era Genitori Ieri vs Oggi spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un commento qua sotto dicendomi se preferivate i vostri genitori quando eravate piccoli oppure quando adesso siete un po' più grandi e alcuni dei commenti appariranno nel prossimo video la fara della settimana è questa qui tutte quante le altre farle trovate il link in descrizione sulla mia pagina di Facebook non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram, su Twitter, su Snapchat, su Musical.ly eccetera 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 spero che il video vi sia piaciuto non dimenticatevi di lasciare un mi piace, di condividere i video su Facebook di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao